buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 5 gennaio 2024 e vediamo subito abbiamo molte notizie oggi sulle pagine dei giornali quindi procediamo alla cremente vediamo subito l'almanacco del giorno e vediamo chi è il santo di oggi oggi si festeggia san giovanni nepo muceno newman un santo che visse nel diciannovesimo secolo boemo di nascita allora la boemia faceva parte dell'impero austro-ungarico siamo all'inizio del 1800 fu missionario negli stati uniti divenne vescovo costruì molte chiese scuole compresa la cattedrale di filadelfia introdusse la devozione delle 48 ore e fu proclamato beato da papa paolo sesto nel 1977 vediamo ora le previsioni del tempo passiamo subito le previsioni del tempo dicendo che oggi ci sono cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associati a deboli piogge questo un po nel territorio marchigiano sono presenti tre millimetri di pioggia comincia un po a perturbarsi il tempo rispetto all'alta pressione dei giorni scorsi ebbene le temperature 10 la minima 15 la massima il mare è poco mosso e il sole sorgerà alle 7 41 e tramonterà alle 16 e 41 queste un attimo le previsioni del tempo sarà ancora una giornata diciamo così accettabile poi e può darsi che domani dopo domani le cose cambieranno ecco abbiamo aperto sulla nostra scrivania il resto del carlino questa mattina sulla pagina di fano e vediamo l'articolo di apertura ieri è stato presentato dal sindaco massimo seri dal sessore al turismo etienne lucarelli un nuovo progetto molto suggestivo devo dire della città di fano si tratta di una videosfera se ne era già parlato in passato ma non si era mai vista il progetto almeno l'immagine il rendering di questa nuova struttura è una videosfera a forma di vongola e la vongola è un po un portabandiera della gastronomia locale della gastronomia fanese sono anzi due le videosfere che sono state presentate eccole le immagini hanno una forma della vongola ecco perché viene chiamata la vongola una videosfera per raccontare i segreti del mare intitola oggi il resto del carlino due vongole giganti saranno realizzate in porto davanti al faro siamo nella zona del ponte che attraversa il porto canale da maggio sarà possibile ammirare addirittura anche i fondali ebbene una videosfera che presenterà un po tutta la nostra marineria presenterà i segreti del mare e costituirà senz'altro un bellissimo viaggio virtuale da parte dei turisti ma anche dei fanesi che vorranno appunto arrivare e assaporare l'atmosfera del porto il sindaco massimo seri e l'assessore lucarelli rilanciano con la videosfera del mare racchiusa in due vongole giganti del diametro di 12 e 6 metri capaci di ospitare tra le 25 e le 30 persone alla volta la suggestione del mare questo è un po è l'articolo di apertura per quanto è stato presentato nella giornata di ieri vediamo ora invece un aspetto poco simpatico di quello che sta accadendo nel porto e lo rivela tonino giardini che è un po il portavoce della marineria locale che cosa è accaduto è accaduto in questi ultimi tempi si sono moltiplicati furti a bordo dei pescherecci rubano un po di tutto dai telefonini ai pc ma anche alle attrezzature di bordo allarme al porto a bordo sottratto di tutto persino gli oggetti di valore ovviamente gli oggetti di valore qualche armatore è stato preso di mira e ha subito i colpi in più occasioni l'ultimo episodio si è verificato in questo contesto poco prima di natale si tratta detto tonino giardini si tratta di un fenomeno che va rilevato perché se si tratta di un episodio una tanto vabbè pazienza ne capitano un po un po di tutte le parti della città ma questa volta invece nel porto si susseguono e quindi costituisce un problema rilevante la tecnica è molto semplice quasi sempre identica approfittando del buio della notte i ladri salgono a bordo dell'imbarcazione forzano la cabina e una volta dentro cercano di arraffare tutto quello che può essere poi rivenduto telefonini computer oggetti di un qualche valore che può alla fine essere monetizzato ecco perché insomma si cerca di suscitare l'allarme e si sa anche che la zona del porto è video sorvegliata però insomma occorre avere magari un pizzico di sorveglianza in più ed ora parliamo di politica perché ovviamente la quasi conferma della candidatura per il centrodestra di luca serfilippi ha un po animato ancora di più la situazione il centrodestra vicino alla candidatura di serfilippi interviene oggi il resto del carlino dopo quanto annunciato ieri dal corriere adriatico e sul fronte opposto si naviga ancora in alto mare nel centro-sinistra sempre più difficile l'accordo tra progressisti e appunto la coalizione che governa la città di Fano e qui abbiamo invece l'immagine di Marta Luggeri perché qualcuno evidenzia come Marta Luggeri potrebbe essere un buon candidato per quanto riguarda tutto il centro-sinistra se si riuscisse a combinare l'accordo tra i progressisti di cui fa parte anche il 5 Stelle e il PD e gli altri partiti che sono in consiglio comunale qualcuno considera come è possibile una via di uscita per Marta Luggeri questo è un po' il candidato che potrebbe proporsi contro serfilippi nel centrodestra insomma sarebbero due figure veramente interessanti il volley della Befana è pronto a partire questa sera alle ore 20.30 tutti al palazzetto dello sport Salvatore Allende per vedere questo spettacolo sì sono gare sportive ma sono soprattutto gare di spettacolo quattro le squadre che si contenderanno il premio finale di questo torneo che ormai è diventato un classico della Befana un torneo organizzato per beneficenza e quest'anno l'associazione che riceverà l'incasso che si otterrà al palazzetto sarà l'Assimitu l'associazione che riunisce i pazienti che sono affetti da ferite di difficile rimarginazione e quindi avrebbero bisogno di un percorso terapeutico e diagnostico preferenziale almeno ben definito in modo che possono ricevere tutte le prestazioni tutte le cure necessarie a terre roveresche in arrivo e aiuti ai più fragili ebbene a terre roveresche il sindaco Antonio Sebastianelli e tutta la Giunta ha approvato il bilancio per il 2024 e non c'è alcun incremento della tassazione questo è sempre uno dei primi elementi che vengono messi in evidenza quando ovviamente quando c'è e quando si approva il bilancio per l'anno che sta per iniziare una precisazione importante perché con tutte le tariffe che sono aumentate con tutte le spese che le famiglie debbono sobbarcarsi se ci fosse anche un aumento di tasse sarebbe veramente il colmo però qui in questo caso sono previsti alle famiglie in difficoltà nella bolletta dei rifiuti anche degli sconti allora alcun incremento della tassazione dice l'articolo né dei servizi a domanda individuale e il nuovo bilancio stabilisce importanti sconti sulla tassa rifiuti per le fasce meno ambienti per i nuclei familiari con un disabile e anche per coloro che svolgono servizi alla comunità come la polizia degli spazi comunali piccole manutenzioni e il supporto ai bambini per le attività del dopo scuola bellissima questa iniziativa assunta dal sindaco Sebastianelli che dice che coloro che collaborano che operano nell'interesse di tutta la collettività possono ricevere qualche sconto nella tariffa della raccolta dei rifiuti questa è una bella iniziativa a Urbino a Urbino c'è un primato dell'università di solito l'università ha dei diversi primati ma questo è importante perché l'università di Urbino è l'ateneo più attraente delle Marche e in tutte le università marchigiane è quello che attrae più studenti da fuori regione e questo è veramente un bel primato che dimostra la qualità dell'insegnamento di Urbino e anche forse la forza di attrazione che questa città ducale esercita in coloro che risiedono fuori regione caso col naso all'insù aspettando la neve dopo la calura ebbene in questo caso è un articolo che riguarda il turismo siamo ormai gli sgoccioli delle festività natalizie è il lungo weekend di domani e dopo domani sabato e domenica domani festa della Befana domenica giorno festivo sarà una buona occasione se ci fosse la neve ma sembra che il tempo diventi perturbato per passare appunto queste ultime festività sul Catria e sul Nerone pronte ad accogliere gli appassionati di sci perturbazione in arrivo in questo fine settimana evidenzia il resto del Carlino la Befana vola alto a Urbania ma anche a Fossombrone e dice non ai cellulari bambini cerchiamo di giocarci di giocare divertirci come una volta con giochi magari di strada ma lasciamo perdere i cellulari perché insomma spesso sono diseducativi e possono essere benissimo così posti in alternativa ad altri giochi molto più interessanti e molto più educativi ebbene questo è il resto del Carlino vediamo anche l'apertura che viene data sulla pagina di Pesaro dove c'è un ritorno della strage che si è verificata dopo Natale nella galleria tra Fermignano e Urbino la strage in galleria all'intoppo dei soccorsi pompieri allertati solo dopo l'ambulanza i vigili del fuoco sono arrivati con molto ritardo rispetto al 118 se fossero giunti insieme forse avrebbero potuto estrarre le quattro persone tanti automobilisti hanno visto senza intervenire purtroppo quanto è accaduto ebbene questa galleria non ha degli impianti antincendio non ha delle manichette per intervenire purtroppo non è obbligatorio per le gallerie che sono al di sotto di un chilometro e quindi la galleria di Cagulino non è stata dotata di questi sistemi di sicurezza e dopo quanto avvenuto si cerca di riflettere sui meccanismi che hanno determinato questa grande tragedia quattro i morti lo ricordiamo e ora speriamo che si cerca di intervenire per aumentare tutte le condizioni di sicurezza e c'è una battaglia abbiamo visto anche nei giorni scorsi per l'edificio della provincia a Pesaro che sembra debba essere destinato ad accogliere appartamenti e negozi ebbene ci sono posizioni contrarie sono gli architetti e quindi ci sono gli architetti Achille Paianini, Alessandro Ceccarelli, Luigi Cioppi, Carla Tarca, Paolo Marconi che obiettano e dicono di salvare questo edificio che è un simbolo dell'architettura del XX secolo e per questa donna pesarese il viaggio di nozze in Africa è diventato un incubo donna risarcita dopo sette anni ha avuto 300 mila euro dall'agenzia Eden Viaggi è stata coinvolta in un incidente stradale mentre con la macchina si trasferiva dalla riserva Masai Mara all'aeroporto di Nairobi il tour operator aveva messo a disposizione un minivan degli anni 70 ma anche a causa della velocità sostenuta da parte dell'autista durante il viaggio il minivan aveva sbandato e si era ribeltato su se stesso ebbene la donna è rimasta schiacciata dall'auto ha avuto delle fratture multiple costali il bacino schiacciato, polmoni compressi insomma è stata molto molto male è stata portata all'ospedale di Nairobi dove è rimasta oltre un mese subendo ben tre interventi ed ora è riuscita ad avere dal giudice il risarcimento che lei si aspettava vediamo ancora qualche notizia su Pesaro capitale cosa dice la gente davvero pronti alla sfida per me c'è troppa confusione ebbene il giornale fa un giro di opinioni tra residenti e non a pochi giorni dall'arrivo del presidente Mattarella che incontrerà i pesaresi e tutti coloro che proverranno dalla provincia nella Vitifrigo Arena due studentesse del conservatorio dicono si sente poco parlare di cosa effettivamente ci sarà e sono qui le due studentesse del conservatorio in questa fotografia pare che non siano abbastanza i 329 eventi che sono stati organizzati per l'occasione in tutto l'anno ovviamente per questa occasione della Capitale Nazionale della Cultura i cittadini ancora non sanno bene che cosa ci sarà veramente forse in questo caso la informazione dovrebbe essere incrementata Cattarina, i primi 70 anni abbiamo bisogno di ideali un articolo dove si parla di solidarietà in 300 hanno festeggiato il presidente della comunità terapeutica ma chiarisco subito il sindaco non lo faccio ha dichiarato Silvio Cattarina la comunità legata all'imprevisto di cui è fondatore è una conferma a Silvio Cattarina è un personaggio molto noto a Pesaro e quindi per quello che ha fatto meriterebbe anche un rilievo politico che lui ovviamente non accetta in questo caso perché si dedica tutto alla sua missione vediamo ora il Corriere Adriatico dove anche sulla pagina di Fano si parla della videosfera della vongola della vongola gigante qui vediamo il sindaco El Etienne Lucarelli l'assessore Etienne Lucarelli che presentano vari aspetti di questo progetto e qua le due vongole gigantesche posizionate accanto al ponte che attraversa il porto canale tra Porto e Lido dove sono queste due vongole insomma che danno un aspetto anche particolare perché hanno un'architettura molto suggestiva Ser Filippi candidato Forza Italia punti piedi noi scavalcati ebbene il cambiamento di decisione che ha assunto Ser Filippi magari accettando la proposta il sostegno anche di Francesco Acquaroli che lo vuole candidato del centrodestra per la città di Fano ha sorpreso Forza Italia che magari puntava in maniera più specifica sull'ex sindaco Stefano Aguzzi il coordinamento locale chiede un confronto nel centrodestra fanese per così almeno essere informato di quello che accade e poi dire, dare la sua adesione o meno e invece in quest'altro articolo di apertura nella seconda pagina abbiamo un lungo intervento dell'assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti il quale risponde alle critiche che sono state evidenziate espresse da due esponenti di Fratelli d'Italia si tratta di Francesca Sorcinelli e di Davide Del Vecchio l'ex assessore ai servizi sociali il tema è sempre quello dell'ASP ovvero dell'azienda dei servizi alla persona a Dimitri Tinti si rimprovera il fatto che ha voluto organizzare il futuro dell'ASP ponendo al vertice una persona sola un uomo solo al comando mentre sarebbe stato più opportuno secondo il centrodestra fare un consiglio di amministrazione che decidesse in maniera collegiale Dimitri Tinti non ci sta ad essere accusato di centralismo di potere perché ha fatto questa proposta e quindi riversa un po' tutte le sue critiche sul centrodestra ma in modo particolare anche sui due esponenti che lo hanno attaccato i saldi sono troppo precoci per la Confcommercio e dobbiamo dire che i saldi cominciano proprio nella giornata di oggi a Fano così come in altre località della provincia delle Marche d'Italia per la Confcommercio però è meglio spostarli a febbraio perché adesso siamo troppo a ridosso ancora delle feste natalizie e bisogna pensare che l'inverno così mite ha un po' ha un po' non un po' molto diminuito gli acquisti dei capi invernali capi invernali che sono stati acquistati a prezzo pieno dai commercianti e che ora dovrebbero essere venduti a prezzo scontato dai negozi appunto che espongono il logo dei saldi Marcolini della Confcommercio critica l'avvio odierno degli sconti di fine stagione gli sconti i saldi dovrebbero essere fatti quantomeno a fine gennaio inizio di febbraio così come quelli dell'estate anziché il 4 luglio essere spostati alla fine di agosto questa data penalizza le vendite di Natale ed è troppo vicina al periodo del Black Friday questo è un po' sono le critiche e le osservazioni fatte dalla Confcommercio il campo dei militari quello di Viale Piceno a Fano l'aggiunta dà il via al progetto riconosciuto l'interesse pubblico alla partnership del comune con l'Alma è stato dichiarato formalmente questo interesse pubblico per l'intervento del campo dei militari con la delibera adottata in questi giorni l'amministrazione comunale detta un passo in avanti sostanziale in questo tormentato iter anche di carattere burocratico vediamo anche sul Corriere Adriatico il bilancio che è stato approvato a terre roveresche dal sindaco Sebastianelli tasse e dariffe invariate con diverse agevolazioni ne abbiamo già parlato a Senigallia Marzocca Cesano e San Silvestro alloggi in ritardo niente consegni ancora rinvii per le case popolari le case dell'ERAP che avrebbe dovuto mettere a disposizione in tempi precoci in realtà ancora queste case non ci sono e c'è una critica determinata da parte del Partito Democratico ed ora vediamo anche sul Corriere Adriatico le notizie che riguardano Pesaro saltiamo la parte delle Marche e parliamo della strada Carloni di questa importante arteria che consente ai veicoli di un po' aggirare la periferia pesarese strada Carloni altro stop corsa verso l'apertura della bretella di muraglia gli ultimi disagi si protrarranno fino al 29 febbraio ma in primavera il nuovo tracciato sarà pronto lo stop è dovuto alla rimozione della asfaltatura e il cantiere dovrà arrivare fino in via Lombroso countdown per la demolizione delle scuole elementare media Anna Franca e Dante Alighieri gli ultimi raguagli tecnici poi ci saranno le ruspe sono questi i due edifici che dovranno essere demoliti nella città di Pesaro la scuola elementare Anna Franca e la media Dante Alighieri l'Anna Franca e la Dante Alighieri eccoli qua traslocano i tesori di Palazzo Mazzolari in previsioni della partenza dei lavori il vice sindaco Vimini incontrerà il maestro Vangi il grande scultore per il progetto dello spazio museale a lui dedicato ebbene il primo mese dell'anno gennaio inizia con il fermento dei cantieri per il recupero dei grandi contenitori storico-culturali della città di Pesaro e Pesaro ha veramente dei palazzi molto belli che appartenevano alle antiche famiglie nobiliari che ora stanno per essere tutti rivalutati restaurati e resi fruibili al pubblico bene questo per quanto riguarda Pesaro vediamo l'ultimo articolo la provincia sede ideale per l'università secondo il sindaco Matteo Ricci che vede appunto nel palazzo della provincia a Pesaro nei pressi di piazzale Matteotti come sede ideale per l'università la sede decentrata dell'università di Urbino che opera a Pesaro e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e dato che c'è un weekend piuttosto lungo vi do appuntamento per lunedì prossimo sempre alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto